La soddisfazione più grande per chi porta avanti il valore della donazione è vedere la sensibilità di giovanissimi pronti a dare il proprio contributo per il bene comune. Sono questi i ragazzi di cui ci piace parlare, quelli che credono in un mondo migliore e sanno fare la propria parte. Così con orgoglio nel bilancio d'attività 2018 dell'Avis comunale di Sondrio, il presidente Antonio Bettinelli, in testa tutti i dati lusinghieri che confermano l'altruismo e la generosità dei valtellinesi, mette al primo posto i 60 neo-diciottenni che lo scorso anno per la prima volta hanno donato sangue e plasma. Sotto l'aspetto donazionale abbiamo superato le 5.300 donazioni ed è anche questo un dato molto positivo. Sono suddivise tra le 3.764 di sangue intero e le 1.492 di plasma. In più c'è il discorso dei donatori che sono la fonte di queste donazioni. Ci siamo attestati alla fine del 2018 sulle 2.807 unità di donatori attivi, vuol dire donatori che sono idonei a donare. 89 di questi hanno fatto la prima donazione e il 67,4% di questi 89 che hanno fatto la prima donazione sono ragazzi di 18 e 19 anni. Un altro aspetto che mi piace sottolineare è che abbiamo già 88 domande in attesa di donità e 33 domande di ragazzi, soprattutto, già idonei alla prima donazione, che aspettano di essere convocati. Sono risposte che ci gratificano e anche sollecitano nell'ambito di chi ci ascolta una risposta a questi bisogni che non vengono mai meno. E nel bilancio provinciale la nostra terra brilla a livello lombardo, con 30 donatori su 1.000 abitanti rispetto ad una media regionale di 25 e con 60 donazioni sempre su 1.000 abitanti rispetto ad una media lombarda di 47. Una ricchezza che consente ogni anno di raccogliere 15.000 sacche di sangue, di cui circa 9.500 destinati a coprire il fabbisogno dei nostri ospedali e il rimanente destinato ad altri presidi sanitari in difficoltà. A livello provinciale le donazioni si attestano sopra le 15.300 unità suddivise tra sacche di sangue e sacche di plasma. E questo è un dato che nel tempo si mantiene ed è un dato sicuramente molto positivo. Perché lei ha iniziato a donare? Ho iniziato a donare nel lontano 1970 perché è sempre stata un'aspirazione. Tenendo conto che nel 1970 io ero minorenne e la maggior età era 21, ho dovuto far sottoscrivere la domanda di iscrizione al mio papà. Penso che sia stata una delle scelte migliori che ho fatto nell'arco della mia vita. Penso che sia stata una delle scelte migliori che ho fatto nell'arco della mia vita.